A conclusione di serrate indagini coordinate dalla procura dei minori di Napoli e condotte dalla stazione Carabinieri di Napoli-Pianura, sono stati individuati sette minorenni di età compresa tra i 13 e i 14 anni che l'altro ieri, all'orario di uscita da scuola, nei pressi dell'istituto comprensivo Ferdinando Russo nel quartiere Pianura, hanno aggredito con calcio e pugni un altro tredicenne, colpendolo anche con un tirapugni. Le indagini hanno consentito altresì di accertare che circa una settimana prima gli stessi sette minorenni, per futili motivi a seguito di una partita di calcio, si erano resi responsabili di un'aggressione analoga nei confronti dello stesso giovane e di un suo amico, minacciandoli in quell'occasione anche con un coltello. La vittima è tuttora in osservazione all'ospedale Santo Bono per le contusioni multiple e trauma facciale riportate a seguito dell'aggressione. Nei confronti dei sette minorenni, l'intesa con la procura dei minori, i carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno effettuato elezioni di domicilio per i reati di lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi bianche.